E' domenica 15 settembre, buongiorno, è il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemulisi in apertura del nostro Tg del mattino, parliamo di economia e di industria perché la possibile riduzione dei livelli produttivi alla Fiat di Termoli insieme alle persistenti crisi di numerose aziende delle zone industriali di Boiano e di Sernia fanno capire che la cassa integrazione e mobilità sono semplici e palliativi, quello che conta ed è necessario un salto di qualità nella politica industriale nella programmazione della regione molise e ce ne parla Enzo Di Gaetano. A parte la mancata diffusione dei dati Istat e tutto quello che ne consegue in termini di commenti inappropriati sull'esistenza o meno del Molise, gli ultimi indicatori economici relativi alla nostra regione sono sempre più negativi. L'indice che riflette come uno specchio brutalmente l'attualità reale è quello relativo allo spopolamento. Tradotto in termini più semplici, parlando di numeri, ogni anno dal Molise vanno via circa 3.000 giovani, la metà in cerca di lavoro, l'altra metà per studiare e laurearsi, per poi cercare un'occupazione fuori dal Molise. Le famiglie a cui daranno vita questi giovani saranno tutte famiglie non molisane. In sostanza di questo passo, entro 50 anni, il Molise sarà demograficamente un deserto, con insediamenti antropici sempre più limitati e corrispondenti agli odierni centri maggiori. Si parla di mezzo secolo e per questi numeri lontani dal nostro orizzonte nessuno ci pensa. Tantomeno una classe politica limitata a guardare alle prossime elezioni e non certo alle prossime generazioni. Per questo motivo la regione, cuore pulsante di un territorio in cui la gran parte del prodotto interno lordo deriva dalla spesa pubblica, avrebbe il dovere di guardare lontano, molto lontano. Tutto il contrario di quello che accade oggi, quando non si è neanche in grado di pianificare un minimo di programmazione per aggredire le zone di crisi industriali più evidenti, come il nucleo di Termoli, dove la Fiat ha già preannunciato un callo dei livelli produttivi e dove c'è la crisi risolta dei lavoratori dello zuccherificio, o Boiano e Isernia, con i drammi ancora aperti di gamme ITR. C'era una proposta di legge regionale, licenziata dalla seconda commissione consigliare, preseduta da Michele Orio, che si proponeva proprio di istituire l'albo unico della mobilità per i dipendenti delle società partecipate. La normativa, se approvata, avrebbe favorito specifici programmi di riqualificazione e ricollocamento anche all'interno del sistema regionale degli ex lavoratori delle partecipate. Ebbene, la proposta è stata rinviata in seconda commissione, come dire, perdiamo un altro po' di tempo. Il tempo da perdere non costa nulla a una classe politica regionale che viene pagata comunque, sia che lavori, sia che non lavori. Per gli ex zuccherificio gamme ITR, invece, la situazione è completamente diversa. Ogni ora, ogni giorno, ogni mese, senza novità, contribuiscono ad acuire un dramma sociale irrisolvibile. Cambiamo argomento, parliamo di un regalo green, fra virgolette, per gli studenti di Brunefro, che domani per il ritorno a scuola riceveranno in omaggio una borraccia di alluminio. L'iniziativa è del sindaco Nicola Montagano per sensibilizzare questo l'obiettivo le future generazioni ai temi ambientali e alla riduzione dell'uso della plastica. Sentiamo Manuela Iorio. Domani si torna sui banchi di scuole. Ad aspettare gli 80 studenti di Brunefro, tra materne, elementari e medie, ci sarà un regalo. Una borraccia di alluminio per tutti, per evitare di utilizzare le bottiglie di plastica monouso, materiale ormai che ha preso il sopravvento nella quotidianità e che è tra le più preoccupanti fonti di inquinamento. L'omaggio, che ha lo scopo di sensibilizzare maggiormente al tema ambientale le future generazioni, arriva proprio dal loro giovane sindaco Nicola Montagano, che ha deciso di finanziare l'acquisto con il Fondo delle Indennità di Carica, a cui ha rinunciato già nel 2015 appena eletto e che utilizza per lavori di manutenzione stradale e di arredo urbano. Si tratta di quasi 18 mila euro lordi all'anno che Montagano, che di professione fa l'avvocato, lascia la comunità. L'annuncio del regalo green della borraccia è stato fatto sulla pagina Facebook del comune di Bonefro e in poche ore il post è diventato virale, con una valanga di commenti positivi, centinaia e centinaia di mi piace e altrettante condivisioni, magari sulle pagine Facebook di altri comuni e di altri sindaci a cui viene chiesto di fare la stessa cosa. Iniziativa che è stata adottata anche a Milano, dove il sindaco Beppe Sala ha acquistato 100.000 bottiglie per gli studenti di elementari e medie che hanno iniziato la scuola già giovedì. E contento delle reazioni positive, Nicola Montagano «Sono stupito, per me è una cosa normale, mi ha fatto piacere vedere l'apprezzamento per un gesto che poi ha proprio lo scopo di sensibilizzare le future generazioni», ha commentato a Telemolise il sindaco di Bonefro, spiegando che questa non è l'unica iniziativa messa in campo dal Comune sul tema della sostenibilità ambientale. In estate, ad esempio, sono stati installati sui tetti della scuola media ed elementare di Via Fani pannelli fotovoltaici da 40 kW e pannelli da 25 kW sul tetto del municipio. Non appena entreranno in funzione, ha continuato il sindaco, non solo utilizzeremo energia pulita, ma avremo un grosso risparmio anche per le casse comunali, visto che il nuovo sistema riuscirà a coprire tutte le utenze pubbliche, comprese quelle dell'illuminazione e del depuratore. In questo modo, a breve, riusciremo anche a ridurre la tasi per i cittadini, ha fatto sapere Montagano. Insomma, buone pratiche per migliorare e proteggere l'ambiente in cui viviamo. Ed è tutto per il nostro Tg del mattino. Adesso la nostra rassegna stampa che iniziamo intanto a guardare i titoli sulla home page regionale del Molise.it L'apertura a spettro, spopolamento per il Molise, futuro sempre più oscuro per la nostra regione, l'articolo a firma di Enzo Di Gaetano. E poi la notizia di cui abbiamo parlato nel nostro Tg del mattino, Bonefro contro la plastica, una borraccia di alluminio per gli studenti, il regalo green del sindaco diventa virale. Termoli rapina la parrucchiera, il figlio si oppone e finisce in ospedale. Ancora da Termoli, scintile nella Lega, su Via Udine, Ciannello contro Fraraccio, resa dei conti nel partito. Rilevazione costo della vita, l'Istat dimentica, Campobasso e il Molise dimentica, fra virgolette, poi segna ripulitura degli alvi, del sordo e del rava, segnalazione della Lipu, poi a seguire gli altri titoli, vi segnalo le sezioni editoriali, idee ed opinioni, le notizie dalla regione e quelle dall'Italia. Uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani regionali in edicola, primo piano Molise, l'apertura è tutta politica, a tutta pagina Salvini, chiama i governatori Toma Cè, il leader del Carroccio, prepara il referendum contro il Rosatellum, così è detta la legge elettorale, intanto l'ex ministra Trenta è tornata per i fine settimana a Campobasso, beccata a fare shopping, a Milano per l'assemblea degli amministratori del centro-destra, il presidente ribadisce il peso della Lega in giunta, parliamo ovviamente di Toma, e si sfoga, in sanità ho dovuto ingoiare il rospo, ma non vedevo l'ora che Matteo staccasse la spina al Conte 1, presto il voto, ed uniti vinceremo, queste le dichiarazioni di Toma, e poi l'editoriale, si duri e silenzi nel movimento, il coraggio ha i capelli bianchi, ancora da Termoli, rapina ad una parrucchiere, rapina ad una parrucchiere, felisce il figlio con un coltello, si sociali, racconto shock, da San Polo, sbuca un cinchiale sulla statale 17, impatto fra auto, Campobasso, telefonini in cella, in carcere resta alta l'emergenza, e poi da Agnone, azzannato dal cane nello studio veterinario, i familiari di un ragazzo di 15 anni, chiedono i danni, vita da Pendolari, poi a centropagina, parte in ritardo e staziona, un'ora a Carpinore, ennesimo treno, lumaca, soste obbligate per non incrociare altri convogli, odissea sul Campobasso, Caserta, e poi vedete da Torella, reddito di residenza attiva, il sindaco dice, aggiungo fondi per ogni nuovo alunno, e poi titoli di sport, serie D, lupi, evitati passi falsi, vasso Girardi ad Avezzano, dubbio 2001, per l'Agnonese con il Cattolica, e poi eccellenza, il Venafro cede a Rocca Sicura, Campo di Pietra, pronto riscatto, promozione, Donchivigie con il Termoli, 2016, Batosta, Spinete, Carovilli fa 6 a 0, per il calcio al 5, torneo al Medio Basento, Sporting Venafro, ok in Coppa. La prima pagina del quotidiano del Molise, adesso l'apertura è dedicata alla cronaca, parrucchiera rapinata e figlio ferito da bandito, pronto a tutto, avvenuto a Termoli dove caccia all'uomo, già ci sarebbe un identikit, per un bottino che gli ha fruttato solo pochi spiccioli, ha rischiato di far sfociare l'episodio in tragedia. E poi da Isernia, vedete il giovane scienziato molisano, svela uno dei misteri del Novecento, Guglionesi, rogo, distrugge Capannone, si valuta il dolo, da Campomarino, eroina pronta per lo spaccio, 43enne nei guai, Campobasso, indennità al sindaco, poco più di 2.000 euro, per quanto riguarda ovviamente la pagina amministrativa. Campobasso, ancora blitz della penitenziaria, 50 agenti in azione sequestrati, 8 cellulari, e poi domani. Vedete, scuola si torna in classe, il messaggio del presidente Toma, ma il segretario la fratta lancia l'allarme, problemi irrisolti, il segretario della FLC, della CGL, la scuola è alla base della società, ma si continua ad investire, poco dice la CGL. e poi immigrazione clandestina, Campobasso, stranieri regolari, giro di vite della questura, per la politica messere del PD, dice l'esclusione dal governo, è una ulteriore penalizzazione per il Molise, e il riferimento è chiaramente alla nomina dei sottosegretari, dei viceministri del governo Conte II, cosiddetto Campobasso, il capitano Antimo Ventrone, al vertice del comando, compagnia Carabinieri, e poi torniamo alla vista della pagina intera, per andare ad approfondire i titoli di sport, Campobasso, serie di trasferta a Tolentino per il riscatto, Cudini dice servirà un atteggiamento diverso, ancora Vezzano e Cattolica, sulla strada di Vasto Gilardi ed Olimpia Agnonese, per l'eccellenza Rocca Sicura, il primo match club stagionale, Venafro, K.O. Tris dell'ACLI, Campo di Pietra. Uno sguardo anche ai titoli del quotidiano telematico Futuro Molise, l'apertura e la cronaca, omessa custodia di armi e violazione della normativa paesaggistica, i forestali di Sernia denunciano tre persone, prosegue l'attività della questura di Campobasso, per il contrasto alla presenza di stranieri regolari, e poi inizio anno scolastico, il messaggio del Presidente della Regione Molise Toma, e poi convocato per martedì prossimo 17 settembre, il Consiglio regionale del Molise. Gli altri titoli, l'Associazione Smart presenta il premio Auditorium Cettà di Sernia, giunto alla settima edizione, dai Sernia conferenza di chiusura di Magna Storia, Izzo, l'organizzatore, uno degli organizzatori, il principale dice, faremo un bilancio dell'evento, ripercorrendo tutte le trappe e poi a seguire gli altri titoli del quotidiano telematico Futuro Molise. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali, partendo come di consueto dal Corriere della Sera che apre con la questione migranti, dove ci sono delle novità, un patto A4 è un patto europeo, il testo del Governo per il vertice del 23, manovra, Gualtieri punta ad un deficit vicino al 2% del PIL, per quanto riguarda l'economia, partenze immediate per altri paesi, questa è la soluzione della questione migranti, sì, di Germania, Francia e Malta, da qui il patto A4 che evidentemente coinvolge, e non può essere altrimenti anche l'Italia. Poi Benetton, per quanto riguarda la questione autostrade, dicono agiremo dai vertici alla società, ipotesi cambio per autostrade. Poi c'è questa notizia dalla Gran Bretagna, rubato il water d'oro Cattelan, pesa 103 kg, preso il ladro, si cerca l'opera dell'artista italiano, sicuramente divenuta famosa. Alla Repubblica Italia cade il muro, la rabbia della Lega oggi appuntita, insulti a Mattarella e Conte, all'ampetusa sì del governo allo sbarco della Viking, la Unione Europea a Palazzo Chigi, non vi lasceremo più soli, quartiere a Bruxelles, nessuna manovra restrittiva, per quanto riguarda gli altri temi, questi sono quelli economici, ipotesi taglio ai contributi, IMS per i redditi bassi. E poi il caso concessioni, Di Maio insiste, via i Benetton, gelo con il PD, e c'è la storia, Iside, Marisa e i malati di Vecchiaia, è l'articolo a firma di Concita De Gregorio. Dalla Repubblica andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, apertura, titolo principale, meglio sulla prima pagina, e questo, autostrade, pedaggi e depistaggi, 43 morti due volte, così i manager sviavano le indagini sul Moranti, disturbavano le intercettazioni con distorsori, concordavano gli interrogatori, dopo il crollo il rapporto utili-investimenti è rimasto 5 a 1. Intanto Di Maio sul tema dice Revoca, Conte studia il dossier e il PD non dice più di no. Esclusivo poi sotto la testata come sarà la manovra green per avere lo sconto dall'Unione Europea al documento 5 stelle per gli investimenti verdi. e-commerce, signor Simis e Amazon, arrivano i manager militari. Ed erano i principali titoli del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere anche la prima del Quotidiano, La Repubblica, la prima di oggi. L'apertura è questa a prodo umano. Lampedusa, porto sicuro per la Osean Viking, trasbordati gli 82 profughi, il via del governo, il PD finalmente c'è discontinuità. La Lega dice è una resa. Finisce l'odissea della nave. Tre quarti dei migranti andranno in paesi dell'Unione. Questo l'accordo raggiunto. Intanto l'udienza a operatori e volontari della Polizia Penitenziaria. Il Papa richiama il fine riabilitativo della pena e il problema del sovraffollamento. Mai carceri polveriere. L'appello di Francesco ieri all'udienza speciale. E poi c'è l'intervista. Ilario Onora insieme per l'Europa cristiana. Il numero 2 del Patriarcato Ortodosso di Mosca dice nuovo dialogo. Dalla prima di avvenire andiamo a vedere anche quella di Libero. L'apertura a tutta pagina è questa. Avanti c'è posto per tutti. Riparte il Festival degli Immigrati. Incredibile. Il governo comunista dal via libera agli africani che puntano all'Italia. Oltre ad essere comandati dai rossi saremo invasi dai neri. Allegria. Ridateci Salvini. Questo è il titolo testuale di Libero. E poi basta stranieri la folla leghista oggi appuntita chiederebbe questo. E poi ancora Grillini e Piddini in pochi mesi ci roveleranno. Scrive e titola Vittorio Feltri sulla prima pagina di Libero. Vediamo anche il tempo di Roma. Riaperte i porti in mare tutte le ONG. Il governo fa sbarcare a Lampedusa i migranti della Ocean Viking dividendosi con l'Unione Europea. Ma non per tutti è la fine della linea. Salvini così sono ripartite a fare la spola le navi. Ma per tutti, chiedo scusa, è la fine della linea Salvini e quindi sono ripartite a fare la spola le navi umanitarie. Mossa di Salvini, poi altro titolo, il maggioritario con il referendum per sventare il proporzionale. Parliamo ovviamente di legge elettorale. Questo l'annuncio ieri a Miliano in una riunione, in un'assemblea con gli amministratori del partito. E poi invasione di ciclisti e sciopero dei mezzi. State a casa oggi mezza città chiusa alle auto per la pedalata di Via Libera. Parliamo di Roma. Domani lo stop del Consorzio Roma TPL. I titoli principali sulla prima del tempo. Vediamo anche il mattino di Napoli che apre con un tema del sud che è questo piano straordinario per il sud dell'annuncio del presidente del Consiglio Conte che dice alta velocità per cormare il gap con il nord. Più investimenti e sviluppo green. Manovra verso l'intesa sul deficit. Gualtieri all'Ecofin. Legge di bilancio non più restrittiva. Ha detto il neoministro nella sua prima uscita ufficiale praticamente in un vertice estero. Video hot di Tiziana. Indagine negli Stati Uniti su 103 Wire del web. Gli 007 americani hanno visto e non denunciato i filmati diffusi da sette account italiani che sono stati identificati. Le pagelle poi. Merefa i miracoli. Elmas a tutto campo. Parliamo della partita del Napoli che ieri sera ha sconfitto la Samp in casa. 2-0. E l'Orente, leggete, è già leader. L'attaccante spagnolo. Il punto che bella nel lamento aspettando il Liverpool. Uno sguardo adesso anche agli altri quotidiani. La stampa. Andiamo a leggere i titoli. Questa è l'apertura dedicata alla nave a Lampedusa di Maio. Così Salvini aumenta i consensi, dice. Poi la vicenda autostrada e Benetton adesso vacilla la fiducia nei manager. L'inchiesta sui controlli ammorbiditi ai viadotti pronto a dimettersi il CDA della Spea che è la società delegata al controllo sulle infrastrutture della Benetton. Per quanto riguarda ovviamente le autostrade salvaguardiate gli azionisti, l'appello sulla revoca Movimento 5 Stelle e PD si affidano a Conte. Titola la stampa. Vediamo anche l'altro quotidiano di Roma. Il messaggero manovra verso l'intesa sul deficit. Quartiere all'Ecofin, legge di bilancio non restrittiva. Disavanzo 10 miliardi di flessibilità ma parte in salita la trattativa per il nuovo patto. Conte dice investimenti verdi si comincia dal sud. Poi la scuola che apre domani in Molise. Caos presidi. Sei istituti a testa con l'incubo processi. Ognuno di loro è responsabile di 1.200 alunni. Parliamo dei dirigenti scolastici. Il doppio degli altri paesi europei. Ed è un boom di cause. Questi titoli principali del messaggero. Vediamo anche il quotidiano economico. Il sole 24 ore. Attacco al petrolio saudita. Produzione dimezzata. E l'apertura all'attentato. Saudi-Aramaco sottotiro. Ribelli iemeniti colpiscono il grande impianto per il trattamento del greggio. Persi 5 milioni di barili al giorno. Timori sui mercati. Intanto altro titolo sulla prima. Partite IVA. Super forfait a rischio. E si parla di conti pubblici. Vediamo adesso la verità. Ricomincia la pacchia. Titolo categorico sulla questione migranti. Con il via libera alla Osean Viking si riaprono i porti alle ONG. La scusa è la vaga promessa di altri paesi dell'Unione Europea di prendersi una quota di migranti. Ma è il solito equivoco. Vogliono i profughi clandestini. Restano qui. Titola la verità con l'articolo di Maurizio Belpietro. Gualtieri poi il ministro dell'economia al palo. Dopo le moine si fa sul serio e la flessibilità si allontana. Altro titolo è dedicato ai benettoni. Il coltello nella piaga del governo. La nuova inchiesta su autostrade scatena il Movimento 5 Stelle che dice via le concessioni. Ma il PD non può permetterselo. Questa è la visione della verità. Vediamo anche il manifesto. Apertura con questo titolo. L'Avamporto per la prima volta dopo 14 mesi di campagna razzista sovranista di Salvini alla Ocean Viking. Una nave di due ONG umanitarie viene aperto un porto sicuro italiano all'Ampidusa. Prime prove di accordo nell'Unione Europea. Di Maio intanto in imbalazzo non c'è discontinuità. Zingaretti basta propaganda sui disperati in mare per l'ex ministro dell'odio che è Salvini e la resa all'invasione. E poi l'Unione Europea apre alla Golden Rule moderata. È l'altro titolo del manifesto. Andiamo adesso a vedere la prima del secolo.it. Il secolo d'Italia riecco a Treiu da venerdì a domenica l'edizione 2019. Con Fratelli d'Italia discuteranno i protagonisti del mondo della produzione. Primo piano Melonia Salvini e Silvio impegni chiari per l'Italia. Renzi punta Forza Italia scissione alla Leopolda. E poi Ocean Viking resa del Movimento 5 Stelle festeggiamenti a sinistra secondo il secolo.it. Chiudiamo la rassegna dei quotidiani con la Gazzetta Sportiva. Titolo principale dedicato alla capolista di Serie A Inter 3. Conte giocando sul titolo Super Sensi. 168 cm è l'altezza ma di testa scrive il quotidiano. Manda l'Inter in testa. L'Udinese in 10 si arrende 1-0. Terza vittoria di fila. L'Erazzurri in vetta da soli in attesa del Toro. Ma il tecnico Brontola c'è tanto da lavorare. Scintille con Sarri. Il caldo stia sereno. Ora è con i forti. Replica Conte a Sarri. E poi Napoli riparte con Mertens. Ora il Liverpool. Samp battuta al San Paolo. 2-0. Stasera intanto a Perona un'altra delle partite di Serie A. Il Milan cerca il Piatec perduto. La chiave può essere Pachetà per quanto riguarda le anticipazioni. Juve invece pareggio a Firenze. Juve-Sarri c'è ma non si vede. La signora trema e perde i pezzi. Rimpianto viola che per quanto riguarda la Fiorentina ha rimpianti per la mancata vista da Firenze. Vittoria. E poi c'è la MotoGP Misano Ring. Oggi Vignales in pole. Polemica in pista tra Marche e Serrossi. Coppi Cento. Il più grande di tutti. Un secolo fa nasceva il mito. Il ricordo della gazzetta sportiva. È di Coppi. Noi con la gazzetta sportiva appunto chiediamo la nostra rassegna dei quotidiani. È il Tg del mattino che vi abbiamo proposto in apertura di questo spazio informativo. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemuris e il telegiornale alle ore 14. e a voi tutte e tutti. Buona domenica.